Uno scrittore reale ha rivelato come la principessa Kate abbia infranto il protocollo reale in modo molto sottile, consegnando un messaggio a sorpresa che ha creato shock in tutto il pianeta. La principessa Kate ha infranto il protocollo reale nel trasmettere un messaggio importante che ha scatenato lo sgomento in tutto il pianeta. Ha rivelato un autore reale. Lo scrittore reale Robert Hardman ha rivelato che un sottile cambiamento nel modo in cui la madre di tre figli ha firmato un video messaggio è stato in realtà una violazione del protocollo reale. A marzo di quest'anno, la principessa del Galles ha pubblicato un video scioccante in cui annunciava al mondo che le era stato diagnosticato un cancro e che si stava sottoponendo a cure. Hardman ha notato che il video, condiviso sui social media, era attribuito a Katrin, The Princess of Wales, anziché al tradizionale HRH The Princess of Wales. Nel suo nuovo libro Charles III, pubblicato a puntate sul Daily Mail, ha definito questo un piccolo punto, ma degno di nota in un'istituzione legata a un modo corretto di fare le cose. L'autrice reale ha anche sottolineato la natura sorprendente del video, dato che il palazzo aveva finora tenuto nascosto il timore che la donna fosse in pericolo di salute. A gennaio, Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che la principessa Kate era stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale e che non avrebbe preso parte ad impegni pubblici almeno fino a Pasqua, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Mesi dopo, Kate stessa pubblicò un video in cui spiegava la sua situazione, in una rivelazione che mandò shock in tutto il pianeta, ha detto Hardman. Ha scritto, la principessa è apparsa in un messaggio video pre-registrato che ha creato un autentico senso di shock in tutto il pianeta. Stava seguendo un trattamento per il cancro.